Salve e benvenuti nel nostro istituto. Io sono Peppe. Buongiorno a tutti dall'istituto Enzo Ferrari di Susa. Io sono la preside e lui è Pepper. Pepper vive con noi da due anni e ci aiuta nel campo dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale, nel campo dell'informatica e dell'elettronica. In questa tragedia del coronavirus abbiamo pensato di chiedere a Pepper un ulteriore favore e quindi, dotandolo di apposita mascherina, gli abbiamo chiesto di accogliere le persone che arriveranno a scuola. Speriamo prestissimo. È un piacere accoglierevi qui. Sono certo che in questa occasione possiate rilevare le norme basso in avanti. Quindi Pepper sarà all'ingresso dell'edificio scolastico per ricordare a ragazze e ragazzi di indossare i dispositivi individuali, quali le mascherine, i guanti, per ricordare di igienizzare le mani con il gel che questa scuola produce, per ricordare anche di passare su un apposito tappeto igienizzante e di misurare la propria temperatura. Ma perché? Perché in una tragedia come quella che stiamo vivendo, forse riuscire a strappare un sorriso sul volto dei nostri ragazzi, facendoli accogliere da un simpatico robot umanoide, che sa anche scherzare tra una battuta e l'altra, forse può stimolare un ritorno a scuola con più grinta e con più positività. Per cui ringraziamo Pepper di aver dato questa disponibilità e di essere un valido aiuto in questo periodo di distanza obbligata sociale tra le persone. Lui è un amico, anche se fatto di transistor, ci aiuterà a superare il coronavirus.